Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City. E aprono le scuole in campania anche alla didattica in presenza. La campanella però suona fra polemiche e preoccupazioni. I genitori temono la diffusione dei contagi all'interno delle aule. E di questo abbiamo parlato col pediatra, il dottor Vincenzo Tipo, direttore del pronto soccorso del Santo Bono di Napoli. Che ha rassicurato i genitori e dettato le regole da seguire per la sicurezza di tutti in classe. Punto sull'emergenza Covid nel Vesuviano con il 2021 che parte con un incremento dei contagi in tutti i comuni. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha rinvenuto e sequestrato una pistola con matrice a brasa. Era ai bordi della strada, nascosta da un bavaglino per bebè. E ora occhio al cello per le nane brune, stelle mancate e alla ricerca di un giovane ricercatore di Bosco Reale. E in conclusione lo sport con la Turis che ottiene uno spettacolare pareggio a Bari nel primo match del 2021. Questo e molto altro nei nostri servizi. Oggi si torna fra i banchi. La campanella è ripresa a suonare anche in campagna, dopo mesi di didattica a distanza. Ma rientrare ai tre banchi suono, in virtù di un'ordinanza regionale, soltanto le scuole dell'infanzia e le classi prima e seconda elementare. Tra i genitori c'è chi manifesta preoccupazione e chi invece sollievo perché aveva temuto che anche i più piccoli tornassero alla DAD. Ma la necessità che i bambini siano seguiti alle maestre che non restino indietro nell'apprendimento si scontra inevitabilmente con la preoccupazione di esporli e di conseguenza esporre altri componenti più fragili della famiglia, come i nonni, al contagio. Alcune mamme della scuola di Amicis di Napoli, infatti, avrebbero fatto a meno di riportare i bimbi a scuola. Avrei evitato se fosse stato possibile, ha detto una mamma, ma ho temuto che facesse troppe assenze e che potesse scattare la segnalazione ai servizi sociali. Tanti, invece, i genitori che, incuranti delle assenze, hanno deciso di far disertare le scuole ai propri figli. Gruppi organizzati stanno portando avanti una vera e propria protesta per continuare con la didattica a distanza. Resta l'ombra di ciò che è successo in autunno, con istituti aperti e chiusi a singhiozzo, in dipendenza dei contagi registrati nelle aule, con famiglie e docenti in quarantena in attesa del tampone. Il costante, seppur ridotto, aumento dei positivi della nostra regione non fa che accrescere la preoccupazione, nonostante le rassicurazioni di medici e politici. E se tra i genitori si agitano preoccupazione e soddisfazione per il rientro in classe, tra i bambini con i loro zainetti in spalla c'è chi è contento e chi piange. Perché, è evidenziato un papà, a causa di queste continue interruzioni e riprese, i bambini non riescono ad abituarsi all'idea di andare a scuola. Ritorno fra i banchi complicato in Campania. Dopo l'apertura alla didattica in presenza, sono tanti i genitori preoccupati per la diffusione del covid nelle aule. Abbiamo chiesto al dottor Vincenzo Tipo, direttore del pronto soccorso del Santo Bono di Napoli, se le paure sono fondate e se il rischio di contagiarsi in aula sia concreto. Posso dire certamente che la regione Campania in tutto questo periodo ha assunto, per quanto riguarda la problematica delle scuole, un atteggiamento proprio di massima prudenza. C'è un monitoraggio molto attento per quanto riguarda la diffusione del covid, anche nei bambini. Questo ne posso essere testimone perché noi come ospedale siamo coinvolti in questo monitoraggio. Io so con quanta puntualità e con quanta attenzione ci vengono richiesti i dati relativi a questo. Per cui posso dire certamente ai genitori di poter essere tranquilli, perché se si è iniziato il presenza vuol dire che in questo momento la diffusione del contagio è veramente bassa e possono essere consentite queste attività. Quali sono invece le regole che dovranno rispettare sia gli alunni sia gli insegnanti per la sicurezza di tutti? Come regola fondamentale e credo che sia anche di buon senso quella di mantenere un certo distanziamento. Gli insegnanti dovranno essere protetti con le mascherine, i bambini più grandi o delle scuole medie e anche delle scuole superiori, ma anche delle classi elementari più in quantità dovranno portare anche loro la mascherina. La mascherina non è pericolosa per la respirazione, che consente adeguatamente di essere fatte prove scientifiche per quanto riguarda le capacità respiratorie indossandole o non indossando le mascherine. Tenete presente che sono alcune attività in cui le mascherine vengono indossate per 12-14 ore al giorno e non c'è stato nessun problema. Quindi una mascherina, soprattutto come quelle che utilizziamo, le chirurgiche, che sono quelle maggiormente utilizzate, non danno nessun problema per la respirazione. Sono semplicemente una barriera protettiva verso il contatto con le mie aeree, con il virus, così come con tutti gli altri virus o batteri. Cosa succede quando un bambino in una classe dovrà fare il tampone? Dovrà in qualche modo attivarsi un meccanismo che coinvolge sia l'asilo di competenza che il medico di famiglia o il pediatra di base. Questo verrà attivato, verrà fatto, proceduto all'esecuzione del tampone e poi in base alla positività o meno si passerà allo screening e all'attracciamento di tutti gli altri componenti della classe, quindi tutte le altre persone che sono venute a contatto con il bambino in una classe. Aumentano i contagi a torre del greco nel weekend. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 40 casi di positività al Covid-19 a fronte di 11 cittadini dichiarati guariti. Inoltre sabato è stato comunicato il decesso di un 88enne. Il bilancio dei positivi cambia quindi in 312, di cui 24 ospedalizzati. Impennata di contagi anche a torre annunziata, dove sempre nel weekend sono stati registrati 59 nuovi positivi contro le 20 guarigioni accertate nello stesso lasso di tempo. Sale dunque a 185 il dato complessivo dei cittadini attualmente positivi, 6 dei quali ricoverati. Anche Enzo Cuomo, sindaco di Portici, ha pubblicato il bilancio della prima settimana del 2021. Nei giorni dal 1 al 7 gennaio sono stati registrati un numero di 449 tamponi effettuati con un esito di 19 nuovi contagiati, con un numero di guariti stazionario. A San Giorgio a Cremano invece le persone attualmente positive sono 50, un numero contenuto ma significativamente più alto del totale di 33 con il quale si era concluso il 2020. I 389 tamponi effettuati nell'ultima settimana hanno evidenziato ben 33 nuovi contagi, mentre 16 sono le persone guarite. Sono 113 i cittadini di Castellammare di Stabia e risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 31 dicembre 2020 a 7 gennaio 2021. Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di un anno e uno di due, 9 ragazzi tra i 9 e i 17 anni, 6 persone tra gli 83 e i 90 anni. Per una 65enne è risultato necessario il ricovero ospedaliero. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha ritrovato e sottoposto a sequestro nel quartiere San Ferdinando una pistola semiautomatica calibro 7,65, modello Stosel e relative munizioni. Sono stati i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano a effettuare il rinvenimento, mentre percorrevano Vico Santa Tersella degli Spagnoli. Nonostante l'ora notturna, le fiamme gialle hanno notato ai margini della strada un involucro quantomeno singolare, un bavaglino da bebè all'interno del quale è ravvolta la pistola, con matricola a brasa e le relative munizioni. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti con fatti di sangue e o intimidazioni. L'operazione di servizio si inquadra nell'ambito della costante attività di controllo del territorio disposta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e riflette le recenti indicazioni del prefetto di Napoli, Marco Valentini, in merito all'esigenza di maggior controllo della circolazione delle armi nel napoletano. Indossano un abito a strisce le due nane brune più vicine alla Terra, una coppia di stelle mancate a soli 6,5 anni luce e di distanza. È l'aspetto delle loro atmosfere per colpa di forti venti che soffiano paralleli all'equatore, creando delle bande orizzontali che ricordano quelle di Giove. Lo dimostra lo studio pubblicato all'Astrophysical Journal degli astronomi coordinati a Daniela Pai dell'Università Americana dell'Arizona. Tra gli autori anche il giovane ricercatore di Bosco Reale Domenico Nardiello dell'Agenzia Spaziale Francese CNES e associato INAF. Per studiare le due nane brune, denominate gli Human 16A e B, i ricercatori hanno utilizzato i dati del telescopio spaziale TESS della NASA, che permette di analizzarne le variazioni regolari di luminosità. Gli studiosi si sono concentrati in particolare sull'Human 16B, con una massa circa 28 volte quella di Giove e una temperatura superiore agli 800 gradi centigradi. Le nane brune, spiegano gli autori dello studio, sono misteriosi oggetti celesti a metà strada tra stelle e pianeti. Hanno all'incirca le dimensioni di Giove, ma in genere sono decine di volte più massicce. I ricercatori hanno scoperto che l'aspetto della coppia inane brune-Human 16A e B ricorda proprio Giove, con la sua atmosfera caratterizzata a bande regolari modellate dai venti. Le atmosfere e le due nane brune, concludono gli autori, sono dominate da venti che fluiscono parallelamente all'equatore e contribuiscono a distribuire nei loro strati più esterni l'enorme quantità del calore ancora presente al loro interno. È finito in parità 1-1 il primo match del 2021 della Turris sul difficilissimo campo del Bari, squadra costruita per la lotta a vertice del campionato. Nell'imponente stadio San Nicola i corallini si presentano con Giannone a sostegno di Pandolfi in attacco. Sono i padroni di casa a partire forte e dopo nemmeno un minuto Rainone stende in area Dorazio per il rigore che però l'ex Serie A Antenucci spara alto sopra la traversa. I pugliesi insistono e cogliono la traversa con Di Cesare. A metà primo tempo blitz Coralino in area avversaria, da Dalt cross al centro per Giannone che in solitudine insacca di testa le spalle di Frattali. A sorpresa Turris in vantaggio. Dieci minuti dopo Dursi è libero di calciare dai 30 metri un missile che si infila all'incrocio dove nulla può abbagnare. Nella ripresa è un rembaggio barese con Antenucci che centra ancora la traversa. L'attaccante ex pal trova poi a bagnare sulla sua strada a respingere un'altra conclusione, poi Montalto manca il tapin. Turris al tiro con Signorelli ma Frattali salva tutto. Il Bari si rovesce in avanti con tutti gli effettivi ma i Corallini resistono fino al triplice fischio. Altro risultato positivo in trasferta per gli uomini di Fabiano che fanno un altro passo importante verso la salvezza relativamente tranquilla. Nel prossimo turno la Turris sarà di scena sabato a Liguori contro la Vibonese. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con nuovi servizi. Grazie per la visione!